Sì, pronto. Pronto? Pronto? Sono Battisti. Sendaci lì Mogol. Attenda. Ragazzi c'è qualcuno che si chiama Mogol. Conoscete un certo Mogol o Mogol? Mogol o Mogol? No, Mogol ha detto. C'è qualcuno qui che si chiama Mogol? No, non lo conosco mica. No, mi spiace, non è mica del nostro ambiente. No, sarà il solito scherzo. Sono io Mogol. Deve essere senz'altro quel gran geni di Battisti. Cerca un Gacciavit. Caperi? Fa miracoli. Pronto? Sì? Assolutamente, ti stai sbagliando. Com'era vestita? No, guarda. Allora non era lei, assolutamente. Guarda, no, se era con un uomo ti stai sbagliando proprio, guarda. Se era con un uomo non è Francesca. Oh, è proprio lui ragazzi. Tremendo, vai, vai. Lo catturo? E vai. Ma cosa me ne frega me a zero non era Francesca? Forse vanno. E poi guarda, Lucio, non fa niente. Vediamoci e parliamo della cozza alla stazione, che devo prendere il treno delle 7.40. Ciao, bello. Scusi, ma lei è proprio Mogol? Mucol. Come? Mucol. Mogol o Mucol? No, Mucol. Allora lei conosce quel cantante, Battisti, Lucio Battisti, sa. Lo conosce? Conosce Schmidt e Wesson, quelle levi storie? No. Schmidt e Wesson, una camicia, una quale? Chi è il culo dei due? Perché sa. Non parliamo di me scherzi, che a Battisti ci girerebbe in balzo, lo sapesse. Posso presentarle dei miei amici? Guardi, questo è Dodo. Ciao, Magol. Come va? Ciao. Poi abbiamo invece qui Conan, il barbaro, ecco, come vedi, molto dimagrito, molto dimagrito, sì, e tre belle galline, eccolo qua, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, eh? E qua la fontiamo per prima. E quindi abbiamo qui il sindaco di Cuneo, eh? Eccolo qua, Lallo. Nice to meet you. Cos'è? Beh, ma un certo momento scusami, Lallo, tu non parli mai, stai sempre zitto. Quando ti ci metti parla inglese. Ah, inglese? Questo non capisce. Ma no, noi l'inglese lo parliamo da generatore in generatore, proprio la nostra famiglia ha una predisposizione per l'elenque. Grazie. Grazie.